Solo voglio ringraziare tutti per questa serata, per i sopporti e speriamo di fare una grande stazione. Forza Roma! Sì, buonasera a tutti, voglio ringraziarvi anch'io perché fa piacere venire a queste serate a vedere l'affetto e l'amore che c'è nei confronti di questa società. Non solo per Roma ma anche per tutti i tagli, parlando del Presidente ha detto che non ci sono solo club e quindi è ancora meglio perché dimostra la grandezza e la passione che c'è per queste società. Poi per quanto riguarda campanato sicuramente faremo il nostro meglio e dobbiamo fare una grande stagione. Grazie a tutti! Ciao, grazie!